Un meccanico di 39 anni, Giuseppe Mattina, è stato ucciso nella tarda serata di ieri ad Agrigento. Il presunto killer Giovanni Riggio, di 29 anni, è fuggito nella notte per poi costituirsi all'alba, a Palermo. L'omicidio è avvenuto all'interno dell'officina della vittima incontrata a San Benedetto, nella periferia della città dei Templi. Secondo una prima ricostruzione, il 39enne è stato accoltellato a morte dal 29enne, i due pare fossero soci in affari. Il killer, dopo il delitto, avrebbe raggiunto Palermo in macchina per raggiungere alcuni suoi familiari. Nel corso della notte, poi, la decisione di costituirsi si è presentato in commissariato all'alba, confessando l'omicidio. Ad Agrigento è intervenuta intanto la polizia e i vigili del fuoco, che hanno aperto l'officina dove è stato trovato il cadavere. Secondo una prima ricostruzione, alla base del delitto ci sarebbe un debito. L'uomo si è presentato al commissariato di Brancaccio, ancora sporco di sangue, e avrebbe consegnato agli agenti anche l'arma del delitto.